Il Centro di Servizi Volontariato di Taranto ha prodotto con l'ausilio tecnico di Renato Frisanco, maggiore esperto nazionale del settore, una ricerca volta a monitorare la situazione del volontariato organizzato e programmare di conseguenza attività e servizi pertinenti. A Taranto e provincia 100 organizzazioni delle 440 esistenti hanno risposto ad un questionario con 30 domande. Un campione più che valido dal quale emergono dati importanti che confermano una fondamentale risposta ai bisogni dei cittadini. Nel Tarantino i volontari sono in totale più di 7.000, sono di più le donne degli uomini e l'età media è di 40 anni. Operano per lo più in assistenza sociale e sanitaria, tutela e promozione dei diritti e dell'ambiente, attività culturali, educative e formative. Insomma sono un supporto indispensabile, sempre pronto ad intervenire con professionalità e per questo gli utenti sono in aumento. A fronte di tanto a Taranto, come nel resto del meridione, c'è la carenza di risorse finanziarie. Renato Frisanco, curatore dello studio. Questo è un punto un po' debole soprattutto del volontariato nel mezzogiorno. Nel mezzogiorno sappiamo ci sono meno finanziatori privati, le imprese sono più deboli, le fondazioni sono in numero minore, quindi il volontariato ha sicuramente risorse più ridotte nel mezzogiorno. ecco.